Lo scacco alle baby gang da parte di carabinieri, polizia e procura dei minori ha suscitato tante reazioni. Repressione necessaria, ma ora è essenziale pensare al recupero di questi giovani, lo ha detto più volte anche il procuratore David Mancini dopo l'operazione. Il fenomeno caratterizzato da episodi di risse, spaccio e estorsione in piano centro ha preoccupato non poco la città. Al di là dei singoli episodi c'è evidentemente un malessere generalizzato acuito dalla pandemia, c'è un disagio sociale che si va di bene e è comune ad altre città, ma l'Aquila forse è più intenso dopo i problemi del post-sisma. La domanda vera è cosa si può fare, cosa si fa, perché questo accade, che cosa si offre ai giovani, ci sono politiche dedicate di integrazioni. Rete 8 fa il punto con Goffredo Jukic, responsabile della comunità Crescere Insieme, che da anni si occupa di questi temi. La nostra è una città che in questo momento sta vivendo alcune criticità rispetto a queste tematiche, però non dobbiamo dimenticare che tanto si fa, tanto fanno le associazioni le strutture come la nostra, tanto fa il comune, c'è lo sport, l'Aquila Calcio, penso all'esperienza dello United. È chiaro che siamo in una situazione di post-pandemica, di crisi economica che probabilmente sarà accentuata, quindi le famiglie fanno fatica a gestire una fase delicata della vita che è l'adolescenza, però insomma io penso che anche i ragazzi, questi che ultimamente sono stati coinvolti in queste situazioni hanno il diritto di trovare la loro strada per recuperare agli errori fatti e la città deve investire sempre di più in politiche inclusive per risolvere queste situazioni che sono brutte, però sono risolvibili, perché non dimentichiamo mai che stiamo parlando di minori, di ragazzi che hanno tutta la possibilità e tutta la vita davanti per poter correggere gli errori che eventualmente hanno commesso. Noi ci occupiamo di cercare sbocchi di lavoro ai ragazzi che vengono ospitati presso la nostra struttura, diciamo che questa città pur essendo un territorio economicamente, non siamo a Milano un territorio economicamente depresso, ma abbiamo tante aziende che offrono lavoro, tanti imprenditori comunque disponibili ad offrire ai ragazzi una possibilità, quindi diciamo che c'è luce in fondo magari al tunnel o a questa situazione che in questo momento può sembrare, che probabilmente è sicuramente preoccupante, ma ci sono tanti soggetti che si occupano di gestire questa situazione, penso al Comune dell'Aquila, questa è una città inclusiva, tante sono le politiche fatte dal settore delle politiche sociali a favore dei giovani, tanti sono gli investimenti, c'è anche tanto di buono, tanto lavoro, tanto volontariato che si fa tutti i giorni da parte nostra e di altri, quindi c'è una speranza, c'è una speranza e noi la dobbiamo coltivare.